Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video, è un nuovo postivo. Sa dove siamo oggi? Dove siamo? All'Aquarell. Ma che è l'Aquarell? Siamo ragazzi all'Acquatica Park. Guardate qua che spettacolo. Adesso qui non gli rende giustizia ma vi faremo vedere tutti gli scivoli fantastici. Noi ci togliamo la maglietta, ci mettiamo la cuffia e partiamo. Eccoci. Allora ci siamo tolti la maglietta, pensavamo di metterci la cuffia ma abbiamo visto che non la mette nessuno. Enea è già partita. Allora ci stiamo ambientando in piscina perché l'acqua è freddina. Io sono abituato. Già? L'acqua è freddina ma è bello perché fa caldo. E' bella pulita. Siamo venuti qua perché faceva caldo e l'acqua è freddina e quindi si sta bene. Ok? Io vorrei dormire qua. Addirittura in mezzo all'acqua? No. No. Su. Va bene. Vai Enea. Vai. Qua? Vai 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 vai. Vai. Oddio. Attenzione. Ma dai. Hai frenato troppo. Vai buttati. Buttati buttati. Vieni qua. Va bene dai scendi da solo. Su. Ammazza oh. Hai visto? Olè. Primo scivolo di Enea fatto. Adesso ne facciamo un altro. Enea ne fa un altro. Ah pensavo che facevi l'altro. Allora. Eh. Sì vado. Vai. Ci sono. Vai vai vieni vieni. Vieni. Sì. Non frenare. Non frenare. Sì. Hai visto? Questo è andato preciso proprio eh. Eccolo. Eccolo. È indeciso. Quale vuole fare? Quale vorrà fare? Quale fai Enea? Enea? Fai quello blu? Ancora? Vai 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 vai. Oh 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 oh. Ah bravo. Vieni vieni vieni. Enea adesso ha fatto questi scivoli, gli sono piaciuti e vuole fare sempre questi Allora forse questa volta farà questo scivolo qui Vediamo com'è Eccolo, vai papi Vediamo, vediamo, dai Buttati Dove, 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 dove Vediamo Ma arriva? Si sarà buttato? O sarà ancora lì? Eccolo, papi Hai visto che non è pauroso? Hai visto? Eeeh, voilà Adesso, Enea Se tu invece di stare seduto ti allunghi con la schiena Vai più veloce Si Dai Tutti i tuffi Tutti i tuffi Epa Tuffo con immersione Mi chiamate Ragazzi Enea ha preso gli occhialini Perché così vede sott'acqua Che cosa vedi sott'acqua? Le mattonelle? O i pesciolini? Cosa? Le mattonelle Le mattonelle Attenzione Attenzione, attenzione Oddio Eccolo Allora Noi ci stiamo dirigendo Verso L'isola dei pirati Lì dietro Eccolo qua Con un secchio d'acqua gigante Se avete visto il video di Leolandia Della parte del Della piscina di Leolandia Vi ricordate un gioco del genere Ma questo è molto più grande Dai, andiamo a fare gli scivoli No ragazzi Questo è una cosa sensazionale Questo parchetto qua Attenzione Volete vedere? In poco tempo Si riempie Guardate che cascata d'acqua Dentro a quella bacinella di legno Va Guarda, 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 guarda Madonna Ma chi è? Mamma mia Mazza ma questa è proprio Un'avventura fantastica Guardate Che spettacolo ragazzi Guardate No, questo è bellissimo Questo è una cosa spettacolare Enea Che cosa fai per prima cosa? Anche questo scarica l'acqua Devo venire anch'io Vengo, vengo Andiamo, andiamo Vai, vai, vai Dai, dai Dai Ci sei? Ma questo partila per tutto Vai, dai Che cosa fai? Tu fai Io li metto qua Davanti a Io li metto in blanche a te Eh Va bene, dai Proviamo a farlo Qua non c'è nessuno Che ci vieta di farlo Ok? Ci siamo? Oddio 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 Ma no, mamma mia ragazzi Che basca Vai, scendi, scendi Noi abbiamo appena fatto questo rosso E abbiamo scoperto che qui Praticamente l'acqua non è tanto bassa Quindi ci siamo annaffiati tutti Ci siamo proprio immersi dentro a quella specie di basca Nel frattempo Attenzione Ci siamo Dov'è Enea? Dov'è Enea? Eccolo, sì Ci siamo Vai 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 Enea Vai, scendi papi Scendi, scendi Vedi? Plus Certo, certo Vai amore Vieni qua Tata Vieni qua, vieni qua Oh 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 Oppla Hai visto? Dai Su, su Altati, altati Brava Hai visto? Che bello È bello? Ti è piaciuto? Anche questo sembra carino Vai Enea Vai, vai Oh sì E ti sei fermato quasi Hai visto? Qua c'è una foca Che ci schizza Ma sì Vai Dai Non c'è nessuno Che ce lo vieta Attenzione La bambina grande E la bambina piccola Forza, forza, forza Eh, come va veloce mamma Enea Dove va? Eccolo, eccolo Enea Ma tu vai piano Su questi scivoli Come mai? Eccola Sì, sì Vai Vai Tata Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Oh Vai Dammi la manina Dammi la manina Brava Io penso di passare sotto a questo tunnel dove ci schizzano l'acqua Attenzione Via, via, via Via, via Ecco qua Ho messo la mano davanti Lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio Che spettacolo Attenzione Attenzione Adesso ne ha rifaccio Questo Eccolo Eccolo Enea Questo va veloce, eh È vero? Attenzione Si schizza l'acqua Vediamo un po' Vediamo un po' Patata Devi fare così Guarda E dai povera Amore T'ha schizzato mamma? T'ha schizzato mamma? E dai Schizziamo Vai Vai Guarda Non viene nessuno, eh Sì Sì Allora Approfitto di questo momento Dove Rossella Mamma Rossella Tiene un attimo Enea E la vigna Sugli scivolini Quelli dei pirati Perché noi Andiamo a fare Gli scivoli Quelli più paurosi Allora Come vedete Questo è un Uno scivolo Non adatto ai deboli di cuore Ed è uno di quelli più alti Di tutti Guardate qua Attenzione ragazzi Mamma mia Piccolo Ovviamente Noi faremo quello più Pericoloso E pauroso Oddio Che roba Non mi ha mai visto Di niente Perché stavo Dovendo l'atto In patto Mamma che spettacolo Alla fine Del camicadze Ci sono i Domoni Anche questo È un gioco Bello Secondo me Speriamo di riuscirlo A fare insieme A Denea Vediamo Il video sul camicadze Si è interrotto Probabilmente Ho premuto il tasto Non lo so Comunque Al momento Non lo rifattiamo Vediamo che alla fine Del video Riesco a rifare Un video sul camicadze Fatto meglio Vai Adesso andiamo La vigna Ti faccio gli scivoli Soltelli Ti sei divertita Hai fatto quale? Quello lì dei pirati? Wow Ragazzi Si Ma che bello Enea Adesso Cale facciamo? Vai andiamo Allora Così E così Dove andiamo? Non lo so Ci sarà Si esce Mi sa Allora Secondo le indicazioni Riportate sul sito internet Dell'acquatica Questo gioco Lo possiamo fare insieme Perché i bambini Sotto ai 130 cm Di altezza Possono andare Accompagnati Prendiamo un canotto Guarda Abbiamo preso il gommone doppio Eccolo qua E si parte Forza Scale 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 Andiamo Oh mamma mia Quanto pesa Ma è un canottone Ho paura di cadere Perché c'è paura di cadere? Ehi Che l'ho dopo? Tutti gli altri Bambini Che sono andati insieme ai genitori Allora Siccome eravamo in una situazione limite Non siamo riusciti a fare il video Però ragazzi è stato fantastico È vero papi? Ma che scherzi Sono andati velocissimi Io pensavo a un certo punto di volare Perché ho detto qua sbattiamo È vero? Ma io pensavo di volare Che spettacolo Che spettacolo papi Cioè allora Non abbiamo potuto fare il video Come vi dicevo Però cerco di farvi vedere da qua Perché noi siamo arrivati Proprio sulla punta qua Infatti io pensavo A un certo punto Ho detto Ma me ne vado fuori Perché ho detto Ma volo Torno a casa col gommone Direttamente Vediamo se parte qualcuno Per farvi vedere Nel frattempo Qui Piscina azteca Vediamo un po' Eccolo Vedete che quello è arrivato Fino qua a metà Noi siamo arrivati fino in fondo Va bene Ciao Dimmi Vai sott'acqua Sì Allora ragazzi Ho fatto Una sosta Sotto la cascata Questa qua Ed è Favolosa È meglio di un massaggio Shatsu Ehi voi dove andate? Dove è la cascata Anch'io Allora Qui ci schizzano Stiamogli alla larga E allora Questa è la cascata Degli aztechi Guardate che spettacolo Se ci andiamo sotto Ragazzi Ti dà certe sassate Che non finiscono più Guarda Rossella Guarda Guarda Gli urletti di Rossella No Spostati qua Spostati di qua Vai sotto Guarda che ti fanno cadere il costume Secondo me Tieniti Dai Dai Madonna ma è troppo È fortissimo Sì Madonna ma è troppo Madonna mia Si arrivano delle sassate qua Guarda amici prima di andare a mangiare facciamo questo qui praticamente si scivola si gira tutto intorno fino a cadere dentro la piscina ok è una specie di buco nero ma si chiama space bowl voleva venire su l'enea ma non lo può fare e siccome io pure sono un bambino di piccolo l'enea sono andato lo stesso perché voglio fare questo space bowl ecco qua space bowl funziona così si sbuca da quel buchetto si gira si gira si gira fino a quando si cade dentro la piscina che vi avevo fatto vedere prima eccolo qua anche il video di space bowl si è interrotto a un certo punto perché secondo me l'acqua o comunque la presa che io ho sul telefono non funziona e ne ha pianto perché pensavo che io non so se ti ho spinto da qualcosa adesso mangiamo allora due delle attrazioni quelle più belle per gli adulti praticamente il video è stato interrotto questa ne è un'altra carina non esagerata come quelle altre vediamo se il video viene per intero Oh Dio, oh Dio, guarda, guarda Eh, ma il primo è uscito così, dopo lo rifaccio, va bene? Ok Brava Navi, brava, buttati, 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 vai all'indietro, oh brava Che spettacolo Bravo I don't finish your class Wow, bravo Riproviamo il kamikaze ragazzi Questo ragazzi è andato tutto liscio Mi sono ammazzato, il costume mi viene andato dentro a sedere, però molto bello Mi sono certissimo, ragazzi, all'acquatica, angolo, viaggia, troppo bello, eh, con cilindro, amico Super bello, super bello Ragazzi, noi vi salutiamo, se vi è piaciuto dove, ciao, vieni qua, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, ciao Ragazzi, iscrivetevi al canale, Enea non c'è verso che viene qua a fare il video di saluti Quindi noi continuiamo a stare qui all'acquatica parte di Milano Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti